Benvenuti su Ultime Notizie e Gossip Italia. Fra pochi secondi scoprirai i dettagli sulla nascita del nuovo figlio di Romina Carrisi e Stefano Rastelli. Quindi supporta il nostro canale con iscrizione e like e rimani fino alla fine, grazie. Romina Carrisi è diventata mamma. La figlia di Albano e Romina Power ha dato alla luce a Roma il suo primogenito, nato dall'amore con il compagno, il regista Stefano Rastelli. I due sono diventati genitori di un bimbo maschio chiamato Axel Lupo. Il parto, che è avvenuto in un ospedale della capitale, è stato naturale e il piccolo, venuto alla luce alle 22 e 39 della sera del 24 gennaio, dopo oltre 14 ore di travaglio, pesa 3 chili e 100 grammi. Il bambino e la mamma godono di ottima salute, hanno dichiarato i familiari alla Don Kronos. La giovane aveva annunciato di diventare mamma durante un'intervista a Verissimo nel novembre 2023, quando comunque la sua gravidanza era già avanzata. Sarò presto mamma di un maschietto, aveva detto emozionata. Ma è stata solo una conferma, dato che alcune foto del settimanale Diva e Donna avevano anticipato forme sospette. Da quel giorno Romina, su Instagram, aveva deciso di condividere sui social i momenti più emozionanti di questa maternità, 3A, cui anche l'ecografia, a cui aveva assistito mamma Romina Power. Romina, 33 anni, è nata a Cellino San Marco, ma ha vissuto per anni tra gli Stati Uniti e l'Italia. Ormai da due anni frequenta Stefano Rastelli, 16 anni più grande di lei, conosciuto in un programma televisivo. E tu sei felice per la notizia?